Terminio motori, emozioni su strada, Viale Italia Avellino Vietato il consumo idrico in località Picarelli, il risultato dei rilievi dei tecnici dell'alto calore di Avellino che dopo le accorate segnalazioni di circa una ventina di famiglie si sono recati sul posto Da cinque giorni infatti aprire i rubinetti dell'acqua in casa dei residenti di quella zona equivale a lasciare aperti i fornelli del gas un odore nauseabondo di benzina proveniente proprio dai rubinetti La campionatura dell'acqua ha portato i tecnici a isolare la distribuzione idrica in quella zona due le contrade coinvolte, contrada Caterina e contrada Caselle Un'ordinanza del sindaco ha impedito così l'utilizzo dell'acqua potabile per una serie di costruzioni e villette di Picarelli Nessun problema invece per la restante parte dell'abitato il serbatoio principale della frazione è stato dotato di una valvola di non ritorno cioè se davvero ci fossero agenti inquinanti resterebbero lì dove sono stati individuati senza la possibilità di contaminare le altre tubature e il serbatoio centrale Gli accertamenti sono ancora in corso l'alto calore vuole vederci chiaro e stabilire se eventualmente insistono nella zona dei pozzi abusivi Il presidente De Stefano tranquillizza l'utenza sottolineando che la contaminazione non dipende dalle reti idriche dell'alto calore L'agente del posto è comunque preoccupata si teme la presenza di eventuali agenti inquinanti che sfungano alla percezione dei sensi ecco perché si chiede all'ente di Corsa Europa esami biologici più approfonditi